Un saluto a tutti voi che siete venuti per questo ritiro di Quaresima, il vostro numero crescente, non potendo noi accogliervi più di 450 per volta. Abbiamo dovuto ripetere il ritiro oggi, perché altrimenti voi sareste stati fuori dal ritiro che abbiamo già vissuto la prima domenica di Quaresima. Ma questa volta il tema sarà una rilettura del libro quaresimale per eccellenza, addirittura il libro del Triduo Pasquale all'interno della liturgia sia orientale che latina, il libro di Giona, che anche per gli ebrei è il libro della penitenza, tanto vero che lo leggono la sera del giorno di Yom Kippur e viene tutto canticchiato all'interno della sinagoga per cantare da un lato la misericordia di Dio e dall'altro lato la vocazione di Israele ad essere ministro di misericordia in mezzo alle genti. Certamente non è la prima volta che commento il libro di Giona, l'ultima volta è stato nel 2002, sono passati ben dodici anni e voi sapete che la scrittura cresce con chi la legge, diceva San Gregorio. Io dico anche la scrittura cresce con chi vive, non semplicemente con chi la legge. E gli anni che passano ci danno una comprensione non solo più profonda della parola di Dio che vi è contenuta, ma dobbiamo anche dire a volte una comprensione diversa. Noi non facciamo lo stesso discernimento sulla parola di Dio a venti, a quaranta o a settant'anni. Proprio perché la parola di Dio si rivela nella storia, anche noi attraverso la nostra storia ne facciamo discernimento e la comprendiamo, e la comprendiamo in modo diverso. Non si tratta sempre di vedervi delle contraddizioni tra le diverse comprensioni, a volte ci sono. Io vi confesso che nella mia vita più volte ho la sensazione di un mutamento nella comprensione delle scritture. Posso anche dirvi di più, credo che tanti di voi si rifletteranno in questa mia affermazione. Nella vita abbiamo cambiato la nostra conoscenza del volto di Dio. Il volto di Dio che abbiamo intravisto quando eravamo giovani sovente non è più lo stesso quando noi siamo diventati anziani. Certo, è sempre lo stesso Dio, ma dei tratti di questo volto che prima non conoscevamo, addirittura forse eravamo impediti a riconoscere, poi diventano per noi invece dei tratti che sono i più significativi. soprattutto le prove che noi attraversiamo nella vita cambiano noi e cambiano il volto di Dio. Abbiamo una testimonianza all'interno della Bibbia di questo mutamento, la più esplicita, in realtà ce ne sono molte altre che magari sono testimoniate implicitamente o per allusione. ed è la testimonianza di Giobbe. Dopo quella prova Giobbe confessa io prima ti conoscevo per sentito dire. Cioè io prima avevo una conoscenza di te che mi era venuta dalla trasmissione della fede, dalla tradizione. Non è un sentito dire banale. E poi nella prova ho scoperto io il tuo volto differente. e Giobbe avrà il coraggio di dire che un giorno quando lui addirittura sarà corrotto nella polvere, quando il suo corpo, la sua carne si disferà, lui ancora vedrà Dio, ma lo vedrà in una nuova forma ancora, una nuova visione, come un altro volto e dice e lo rivedrò non più come estraneo. La nostra conoscenza di Dio è una vicenda, potremmo dire un'avventura. Tutta la nostra vita ne è impegnata, vita di credenti, vita di popolo di Dio, vita di chiesa. Giona è un libro che è testimone di questo mutamento, soprattutto nella sua vicenda di profeta. Ed è proprio per questo che Giona intriga noi. Noi potremmo dire davvero, leggendo questo libro, che res nostra agitur. In realtà la vicenda di Giona è una vicenda che può essere nostra, è la vicenda di molti credenti. Molti credenti per due aspetti. Il primo. Nel libro di Giona è narrata soprattutto una tempesta. Sappiamo tutto che la tempesta è un fenomeno meteorologico che si caratterizza per uno scatenamento delle forze della natura, il vento, il mare, nella tempesta. La qualità orizzontale del mare diventa verticale e ciò che lui racchiude si dischiude in abissi profondi. Ora la tempesta è un'esperienza comune a tutti quelli che percorrono i mari. sono l'esperienza per eccellenza. Io vi confesso che la tempesta è l'evento che io temo di più, di cui ho più paura. Però vedete, la tempesta è l'esperienza per eccellenza che diventa una grande metafora nelle nostre vite. prima o poi nelle nostre vite conosciamo il naufragio e andiamo a fondo. Nessuno è garantito dell'esenzione dalla tempesta. Voi lo sapete, un evento, un cambio della nostra vita, una malattia, una situazione una situazione faticosa ci portano nella situazione di tempesta dove noi andiamo a fondo, dove noi raggiungiamo l'inferno come metafora e l'inferno è là dove noi non comprendiamo più nulla, dove non c'è luce, dove non riusciamo a percepire neppure che ci sia Dio. non possiamo credere che Dio sia all'inferno. Pensate quante volte nel vostro lamentarvi quando sopraggiunge la tempesta potete chiamarla crisi. Oggi forse preferiamo questo termine. Uno dice ho l'acqua alla gola non ce la faccio più, non respiro più, le onde passano su di me, scendo all'abisso, sono davvero all'inferno, sono nell'oscurità. Guarda caso sono tutte le espressioni dei salmi dove c'è un credente nella tempesta e che ricorre a queste immagini della tempesta sul mare. Salmo 69, Salmo 22, Salmo 30, sono almeno una ventina di salmi che ricorrono a queste immagini di annegamento, di soffocamento, di discesa delle profondità del mare. Noi ogni tanto nella vita abbiamo questo. Poi sì, la chiameremo in modo differente, crisi di medietà, chiamiamola depressione, chiamiamola momento di perdita di principi morali, chiamiamola momento di sconfitta, però c'è, 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 c'è. Allora, un tema del libro di Giona è proprio questo. ma c'è un inferno per l'uomo e in quest'inferno Dio è presente sì o no? E può essere presente. Questo è un primo tema. Quello che usa soprattutto della metafora della tempesta che voi trovate in tutte le letterature, pensate nell'Odissea, la tempesta di Ulisse, pensate nell'Eneide, la tempesta, nel provare e poi tutta la letteratura si è sempre servita del tema della tempesta. Fino a quel bellissimo detto naufragio un feci bene navigavi. Se ho fatto naufragio è perché ho navigato bene, se sono ancora qui a dirlo. L'espressione voi sapete è di Orazio ed è un'espressione indubbiamente molto sapiente anche se criptante.